Buongiorno, oggi facciamo i pomodori, la passata, adesso stiamo facendo un metodo di prendere, adesso vedete che questo si esce da qua, intanto che lo mandiamo giù diventa passato, dopo faremo ancora la stessa cosa. Cosa succede ora? Facciamo la stessa cosa di prima. Non di niente. Faccio lì, dai. Stai venendo buona? Non so. Finita la gente, non sai che fanno. La mamma non avrebbe mai avuto l'intelligenza di mettere nemmeno. Adesso gli faccio vedere il video. Noi siamo più intelligenti. Stai ancora riprendendo? Sotto, sotto, va bene così. Eh? Fa. 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 Allora, da qua, a qua, a qua, no, da qua, a qua, a qua, a qua. Allora, da qua, a qua, a qua, a qua. Allora, a qua, a qua, a qua, a qua, a qua.